Ciao a tutti ragazzi E oggi usiamo Shelly Perché mi hanno detto che è forte Ma scusate, siamo molto sondati ma adesso l'ho fatto squadra Eravano tutti al centro Bidì, non ci sono casse, erano tutte al centro Cioè, chi ha vinto al centro si è preso tutte le casse Guarda lì che c'è Poccio Ci sono entrambi Scappa, scappa Sì, sì, lì in l'erba Contro finale, vai Io ho l'ulti, aspettiamoli qua in l'erba Sì, vabbè, avevano 15 gemme, è impossibile Sì, grazie Ma chi è che fa che cazzo del rumore è lì? Cambio provo qui Non l'ho mai usato Facciamolo Sto gustando ragazzi Sì, 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 sì Una fera Bella Ma come si stanno? Guardate, sta arrivando uno dietro Aire inizio Chiudiamo Oh, ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco qua, aiuto Ma come fa il bombardier se è così veloce a correre? No, l'ho ammazzato! Vabbè, io ero cominciato di essere morto Loll Vabbè, scianna, scianna Dai, sui di nuovo Oh, io ero Oh Allora, in qua dai dai c'è chiudi dai dai ma che bollo ok dai K3 non farti infinocchiare rica rica bella ma li secco tutti li secco ora quanta vita che li ho tolto facciamo una fottata, facciamo una fotte insieme gli ho detto per resisti 3 scappa scappa buono no no l'hai proprio soccato prendi lì la Germa e scappa vieni qua vieni qua ok oddio allora non ti diciamo ok ok resta la resta è una scossa con lei aspetta che si vai 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 su bella siiii ma il mio orso stava ancora picchiando e schere ecco z ecco z è pronto ragazzi adesso il gameplay si accende dopo questa vittoria incredibile perché allora apriamo o no questa cesta ragazzi dov'è? noo uuuu uuuu eeeeee uuuu 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 non so perché l'ha perso ma si può tirare anche grande è quello che devi fare la bella stai laggando non capisco stava laggando aiuto wow power of music allora ragazzi scrivetemi nei commenti che canzone volete di sottofondo nel prossimo gameplay così il video mi verrà bloccato per copyright guarda che adesso non lagga più adesso si va ragazzi si va a segnare perché tu vado a sciocciare buono buono è troppo forte ma dai ma che fortuna ha fatto 4.000 rimbalzi ma si può giocare di sfonda no 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 z è tutto nelle vostre mani ma è tutto vuoso ma spara ancora adesso vado dal bombardino no 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 quello strombolo lì deve morire vieni vieni no sta laggando gioco di melma passalo su passalo su Mustafa dai porco busy la pala ecco l'ho lanciato come vanno se l'ho tirata io ma che c'è lui ma che c'è lui ma che c'è lui questo gioco è una melma Bella ragazzi Questo è tutto per questo video Se volete ripetizioni su come si gioca Brawl Guardate i video e basta State zitti Perché questo è tutto